Verrà via aperta domani, anche se in modo parziale, così come dichiarato dall'ordinanza dirigenziale del Comune di Foggia, la nuova orbitale che collega Viale delle Viatori, per chi non è del capoluogo, è la via che si affaccia davanti alla Mongolfiera e che collega Foggia a Candela, quindi con la strada statale 655. Alle mie spalle è ancora possibile vedere operai a lavoro per il rifacimento stradale e anche della pista ciclabile, comunque sia domani la ditta appaltatrice, secondo quanto comunica anche l'atto dirigenziale, predisporrà della segnaletica necessaria agli automobilisti.